Non è giusto che mi dai tutte le croce addosso, ma tu lo devo immaginare, mi porto in mezzo ai fascisti, io reggo, reggo e poi mi scappa, e poi hai visto come fanno quelli là, tu perdi il lavoro, ci cacciolo via come cadi, ma c'ha detto in fondo di male, che manda a un confino chi non la pensa come loro. Io credo che disturbare una cerimonia pubblica sia un reato anche in un paese democratico, ma io non so democratica, sono anarchica.